Ciao Matteo, io mi chiamo Raffaele, ho sette anni e ti farò vedere il mio provino. Pinocchio! Chi mi chiama? Sono io, hai fame, vero? Se Geppetto fosse qui, saprebbe come sfamarti, ma purtroppo è in carcere per colpa tua. Chi sei? Cosa vuoi? Sono un grillo e abito in questa casa da più di cento anni. Adesso vattene, è casa mia e io ci faccio quello che mi pare. Perché ridi? Tutti quelli che si comportano come te finiscono presto o tardi in prigione o all'ospedale. Adesso sì che mi hai stufato.